Benvenuti a questo nuovo video del Giardino della Pedagogia. Io sono la dottoressa Mare Sara della Valle, sono una pedagogista e non giocatrice e sono esperta nel lavoro con famiglia minore. In questa puntata volevo parlarvi del lavoro del pedagogista e soprattutto in particolar modo di cosa significa essere pedagogista, cosa significa lavorare nel mondo educativo, nel mondo dei servizi sociali, cosa significa lavorare con persone con particolari fragilità, particolari difficoltà e cosa significa lavorare nel mondo dei servizi sociali, nel modello appunto e anche e soprattutto nel mio caso come libera professionista, che cosa significa essere appunto pedagogista sia a livello appunto un po' nei servizi sia a livello di libera professione. Io vi invito ecco anche di iscriverti a questo canale per ricevere le notifiche e non perdere nessun video, così anche di seguirmi anche su tutti i social, in particolare su Instagram e ti ricordo anche che è uscita anche la newsletter educata, in particolare parleremo o meglio parlato della cinema ed educazione, del rapporto tra cinema ed educazione e poi appunto ne uscirà una a fine dicembre poi in merito che comprende anche il mese di dicembre relativa invece al lavoro e quindi alla demografia, lavoro e situazione appunto familiare. Se ti interessa appunto ti invito ad iscriverti e direi proprio di iniziare. Allora come vi ho detto vi parlerò in questo video del perché, diciamo di che cosa significa fare la pedagogista e che cosa significa lavorare nel mondo educativo, nel mondo dei servizi sociali. Essere una pedagogista significa quindi innanzitutto aver conseguito sia la laurea terrennale in scienza ed educazione della formazione ma anche la laurea magistrale in pedagogia, quindi le diverse appunto lauree magistrali pedagogiche le quali appunto permettono l'abilitazione come pedagogista. Già vi dicevo un po' i vari servizi che può svolgere il pedagogista, quindi vi rimando a quei video che ho pubblicato qui sul canale, se mai ve le metto qui sotto in descrizione. Entrando però appunto nel merito di questo video, entrando a capire che cosa vuol dire essere, che cosa significa essere pedagogista, che cosa significa lavorare nel mondo dei servizi educativi, che cosa vuol dire lavorare con situazioni di fragilità, di difficoltà, con situazioni particolari, con situazioni alle quali richiedono un esperto, un professionista che possa quindi entrare in relazione con la persona e possa quindi sollecitarlo, motivarlo per ritrovare il proprio benessere e il proprio equilibrio. Quindi in sostanza l'essere il pedagogista significa quindi una persona, un professionista, come vi dicevo, sia aver conseguito la laurea terrenale ma soprattutto la magistrale e poter appunto svolgere una determinata consulenza pedagogica rivolta appunto a questa determinata utenza che può essere come vi dicevo anche nei video più specifici famiglia, minore, ragazzi, adolescenti e quant'altro e alle quali appunto noi ascoltiamo i propri bisogni, la propria necessità, la propria vita e alle quali tentiamo appunto di dare un sostegno pedagogico, non un sostegno psicologico, perché noi differiamo profondamente dallo psicologo, dalla psicoterapeuta, il quale diciamo si focalizza maggiormente sulle aspetti mentali, sulla psiche e quindi sull'individualità proprio in senso stretto, mentre nel nostro caso a livello pedagogico riguarda prettamente la vita quotidiana, quindi la vita pratica, le relazioni che noi abbiamo nella nostra vita quotidiana e quindi in questo senso noi siamo pedagogisti, ecco che cosa significa essere pedagogisti, lavorare per il benessere della vita quotidiana della persona, delle sue relazioni con la famiglia, piuttosto che nel lavoro, piuttosto che nel gruppo dei pari, eccetera, eccetera, quindi è proprio un'ottica a 360 gradi. Il lavoro del pedagogista è un lavoro quindi che intercetta e comprende innanzitutto con l'osservazione, poi soprattutto con la comprensione del problema e poi cercando di trovare appunto delle strategie adeguate, specifiche per far fronte e quindi ritrovare il proprio equilibrio. Quindi innanzitutto fondamentale è l'osservazione, osservare e capire un po' anche le espressioni non verbali del nostro utente stessa, soprattutto se riguarda anche la consulenza pedagogica, ma che può essere anche la sopravvisione, quindi soprattutto se è individuale o anche se è di gruppo, quindi capire anche il contesto del gruppo, capire come si muove, capire anche la funzione del leader, per capire come è strutturato, come è organizzato, come è gestito il servizio stesso. Quindi nelle varie fasi e nelle varie ruoli che può avere il pedagogista, sia a livello della consulenza, il supervisore pedagogico o anche a livello formativo, quindi nel contesto aziendale, nel contesto dei servizi del terzo settore, il quale può appunto svolgere della formazione, quindi tramite per esempio corsi di aggiornamento, i quali appunto che permettono di arricchire, di approfondire determinate conoscenze o anche di scoprirne delle nuove. Quindi ecco che cosa significa essere pedagogista, significa veramente lavorare con l'utente stesso, lavorare in un'ottica formativa, quindi a 360 gradi, formando quindi il soggetto, l'utente, verso un ritrovare se stesso, un ritrovare proprio equilibrio sociale, un ritrovare un equilibrio sociale, una relazione a livello formativo, quindi nel miglioramento lavorativo e che poi influisce sull'utente, sulla collettività specifica del servizio e quindi nel miglioramento del gruppo stesso. Quindi ecco questa è un po' la funzione, qual è il ruolo del pedagogista. Lo stesso si può avere anche nel caso del tutor politico attivo del lavoro, piuttosto che il tutor di supporto allo studio, nel miglioramento quindi delle qualità di apprendimento del soggetto stesso, oppure anche in merito all'intervento educativo domiciliare o scolastico, anche qui sì c'è anche una fase di apprendimento soprattutto in merito all'aspetto scolastico, ma soprattutto anche un intervento di risocializzazione, di sollecitazione, di sviluppo di nuove conoscenze, di una qualità delle relazioni, di una qualità anche a livello culturale di ciò che il territorio offre e quindi di immergere l'utente stesso in questo senso. Quindi è questo il significato, è questo che svolge il pedagogista. L'essere pedagogista è anche una missione, un po' per certi vesti da una parte, nel senso che ovviamente uno deve avere una predisposizione propria, un'inclinazione verso l'altro, verso aiutare l'altro, verso il riconoscere le fragilità, verso l'avere un po' di compassione se vogliamo, anche un minimo un po' di empatia e di comunque ecco, saper cogliere diciamo le esperienze, i racconti, le narrazioni degli altri. E questo è appunto anche il fruco fondamentale, al di là poi di quello che si dice la pazienza. Ma il fruco fondamentale è sapersi quindi punto relazionale con la persona che ha queste difficoltà, sapersi muovere nei diversi contesti, capire l'organizzazione come funziona e quindi puoi provvedere piano piano, facendo quindi un progetto pedagogico, una o una, anche riunioni di equip, se riguarda una supervisione o una formazione, quindi capire le varie fasi appunto per arrivare poi all'obiettivo. È importante avere anche appunto delle tempistiche, anche se comunque è importante che avere una certa flessibilità, per poi appunto, avendo quindi questa programmazione, poi è possibile anche cambiarlo, ovviamente come vi dicevo, ma mantenere anche appunto una linea, un'organizzazione anche minima appunto di compressione del problema, di appunto lavoro, sviluppo delle varie fasi, di implementazione, di modifica appunto, miglioramento eccetera eccetera. E quindi ecco che cosa fa il pedagogista, che cosa significa essere pedagogista? Aiutare l'altro, migliorare se stesso e soprattutto ritrovare l'equilibrio della persona, l'equilibrio anche a livello del gruppo, se noi lavoriamo come supervisioni, come formazione, l'equilibrio a livello della famiglia e ritrovare quindi il benessere in senso sociale, in senso lavorativo, in senso scolastico, in senso aziendale, in senso quindi appunto dello sviluppo di una determinata comunità. Se avete, quindi questo è un po' quello che svolge il pedagogista, che cosa significa essere pedagogista, lavorare per il bene della persona. Chiaramente appunto è importante che porre dei limiti, quindi non dare tutto ciò alla persona, è importante stabilire dei confini, dei limiti, stabilire i ruoli, stabilire anche i tempi, le modalità, importanti anche nel caso della consulenza, ma anche può essere anche nella supervisione, nella formazione, stabilire il consenso tra le parti e tutte le varie aspette, anche adempimenti burocratici, importanti è anche appunto fermarsi anche in determinati casi e quindi ecco è un work in progress, è un andamento, un mutamento continuo il lavoro del pedagogista, significa anche questo, significa anche comunque seguire anche poi l'andamento del percorso, sia per quanto riguarda il lavoro individuale, ma soprattutto di gruppo. Importante sì fare come vi dicevo prima una scaletta o comunque una minima programmazione, ma sapendo anche che questo può mutare, può modificare, può appunto implementarsi, può avere anche delle battute di arresto eccetera eccetera. Quindi sapendo anche proprio questo, essendo anche consapevoli che lavorare con la persona non è lavorare con degli oggetti, è lavorare appunto con una persona che è necessario appunto sollecitare, è necessario anche ovviamente avere un quadro totale anche con altri professionisti, per esempio i psicologi, l'assistente sociale, perché da soli effettivamente non riusciremo a fare nulla, infatti l'ottica dell'equip è fondamentale in tutti i sensi, sia per la supervisione, la formazione per le famiglie, per esempio per i genitori, avere una discussione, un confronto anche con gli altri, ma soprattutto anche a livello di lavoro con gli utenti stessi, con l'utente stesso. Questo è diciamo un po' il che cosa significa essere una pedagogista, che cosa significa lavorare a contatto con le persone, che cosa significa lavorare per le persone, che cosa significa lavorare con le persone, che cosa significa lavorare con l'altro, per l'altro, ma soprattutto che cosa significa lavorare favorendo non solo la risposta a quelle visione, che talvolta non corrisponde neanche alla problematica in senso stretto, ma soprattutto ritrovare il benessere, l'equilibrio, la capacità di affrontare i rischi, le difficoltà della vita, la relazione, sapersi dialogare con il mondo, anche con l'uso delle nuove tecnologie, se appunto il contesto lo richiede, la scuola o i ragazzi, eccetera, ed è questo un po' il senso dell'essere un pedagogista. Se penso di essere stata abbastanza chiara, nel caso potete commentare qui sotto, che per me è fondamentale, lasciatemi un like, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale per attivare la campanella e ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Io vi ringrazio e alla prossima!